La presentazione è una tecnica innovativa ecocardiografica per guidare la chiusura percutane dell'auricola sinistra. Oggi vi parlerò del primo paziente che ci ha spinti verso la ricerca di questa nuova tecnica presso il centro di Siracusa. Si tratta di un paziente di 72 anni, uomo, a petto da fibrillazione atriale permanente in trattamento con NAO, ipertensione arteriosa, diabete e un'insufficienza renale cronica con un filtrato glomerulare di 48 ml al minuto. Il paziente non riporta in anamnesi cardiopatia ischemica cronica, è una frazione di edizione conservata. In anamnesi però è presente una malattia di reclusso gastroesofageo cronica che nel tempo gli ha determinato una senosi esofagea. Giunge alla nostra osservazione per una ischemia cerebrale durante il trattamento con anticoagulante orale complicata da infarcimento emorragico. Questa è una chiara indicazione ovviamente a chiusura percutanea dell'auricola sinistra. Il paziente ha un alto rischio ischemico con un CED vasco di 5 e un ALS bled di 4. Io ho riportato sia l'attack che la risonanza effettuata al paziente sulla sinistra appunto l'attack e alla destra la risonanza nelle sequenze gradient eco per apprezzare l'emorragia cerebrale che vediamo come una lesione iperdensa nell'attack nel contesto di un'area ipodensa e a sinistra nelle sequenze gradient eco dove il sangue appare nero possiamo meglio apprezzare a livello frontale mesiale di sinistra quest'area ipodensa. Vi ho riportato anche le sequenze della risonanza FLER e DVI proprio per vedere l'area ischemica che in questo caso si presenta come una lesione iperdensa e tra l'altro una lesione comparsa da meno di 6 ore come possiamo sapere dalle sequenze DVI. Al paziente essendo giovane abbiamo deciso di fare anche un'arterografia per escludere la presenza di alterazioni di MAV e come possiamo vedere non erano presenti quindi è stata confermata l'indicazione a chiusura percutanea dell'auricola sinistra che sappiamo essere guidata oltre che con la scopia da o ecocardiografia transesofagea che rappresenta il gold standard oppure da un ulteriore approccio che può essere ecocardiografia intracardiaca. Da noi si poneva però il primo problema come step è cioè una valutazione ecocardiografica pre-procedurale per escludere la presenza di trombi e valutare le dimensioni e le caratteristiche dell'auricola stessa. Nel nostro centro non è possibile effettuare TAC, noi normalmente effettuavamo un'ecocardiografia transesofagea e il paziente non poteva essere sottoposto a questo tipo di esame a causa della sua stenosi esofagea. Riguardando la letteratura abbiamo visto come in più di 24 pazienti fosse stata valutata l'auricola sinistra e quindi la presenza di trombi mediante la sonda AIS utilizzata per via transesofagea dimostrando una sensibilità che va dal 98 al 100% quando l'auricola viene visualizzata. La stessa tecnica quindi l'AIS per via transesofagea è stata utilizzata per guidare la chiusura per cutanea del forame ovale in 24 pazienti con successo ma questa tecnica ancora prima veniva adoperata per via nasale oppure via transesofagea per effettuare la correzione di malformazioni congenite in neonati e in bambini. Allora abbiamo pensato di utilizzare questa tecnica intanto nella valutazione pre-procedurale e la sonda di 2,5 mm quindi essendo 8 French le dimensioni sono notevolmente ridotte rispetto a una classica sonda transesofagea questo ci ha permesso di oltrepassare rapidamente senza alcuna problematica quindi la stenosi esofagea del paziente. Durante questo tipo di valutazione ci siamo accorti che la qualità delle immagini era veramente buona quindi ci siamo chiesti perché non guidare l'intera procedura con questa nuova tecnica. Il vantaggio sarebbe stato quello ovviamente di non avere l'anestesia, di garantire un buon conforto del paziente e avremmo risolto la problematica che in questo caso si era venuta a presentare appunto la stenosi. La procedura è stata eseguita nei suoi classici step quindi proiezione bivaccavale e asse corto della osta sono stati adoperati per la puntura transettale, è stata acquisita una classica immagine per l'auricola per effettuare le misurazioni e poi è stato rilasciato il dispositivo. Il primo concetto è che ci siamo accorti che una volta posizionata la sonda e acquisita la prima immagine a 30-35 cm dalla rima buccale bastava bloccare il dispositivo e non erano sufficienti piccolissimi movimenti rispetto a quegli adoperati per un classico transesofageo e a quel punto le restanti proiezioni sono state acquisite grazie alle rondelle nella parte terminale, anteroposteriore e destra-sinistra grazie alle quali basta avere una buona contezza anatomica, la posizione anatomica delle strutture per ottenere le immagini. Potete vedere quindi una bicavale, l'asse corto con il tending e la puntura transettale, ovviamente le immagini sono di confronto a sinistra e il TE a destra di un altro paziente. Abbiamo poi posizionato normalmente la guida nella polmonare, abbiamo acquisito le classiche misurazioni dell'auricola sinistra e vedete che le immagini sono abbastanza sovrapponibili, quindi per un operatore che è abituato a interfacciarsi con il transesofageo è facile anche interfacciarsi con questo tipo di metodica. In questo caso il diametro dell'ossio è di 19 mm, abbiamo scelto quindi una protesi Watchman Flex di 24 mm, abbiamo adoperato gli stessi criteri, ossia i passi utilizzati con l'ecotransesofageo standard e una volta soddisfatti abbiamo deciso di rilasciare la protesi ottenendo una compressione tra il 20 e il 22%. Questo è il risultato finale e il dia residuo ovviamente è piccolo, paragonabile sostanzialmente a quello quando si esegue una procedura con un classico transesofageo. I vantaggi di questa metodica è stato ovviamente non adoperare un'anestesia, in questo paziente nello specifico noi abbiamo utilizzato il Dexor perché uscivamo anche da un'esperienza di sedazione conscia quindi con Dexor e Midazolam, ad oggi in realtà questa tecnica viene adoperata senza utilizzare più né Midazolam né Dexor ma solo con l'axidocaina quindi locale e ovviamente questo in un grosso centro di dove quindi si effettuano tante procedure permette anche un'organizzazione più rapida perché non è più necessario l'ausilio dell'anestesista e si sono quasi del tutto abolite ovviamente le complicanze correlate all'anestesia. Limiti di questa metodica è chiaro non sono presenti ad oggi degli studi in letteratura e non c'è una standardizzazione in atto seppur trasmettendola ad altri operatori in effetti la learning curve sembra essere abbastanza breve. Ho aggiunto dopo che il caso è stato accettato alcune slide semplicemente per dire che da questa nostra esperienza da questo paziente in cui abbiamo detto ci siamo a qualche posto di questo problema perché c'era una stenosi ma perché non applicarlo anche in altri pazienti. E da qui abbiamo deciso di proporre al Comitato Etico di Catania uno studio proprio per dare supporto e validità a questo tipo di tecnica ed è stato dato parere favorevole per cui è partito questo registro atto a valutare non solo l'outcome per il procedurale con focus sulle classiche complicanze quindi ictus, tia, stroke, infarto, emorragia, avversamento ma anche valutare le complicanze nel FOLAP quindi noi li rivediamo a 30-45 giorni valutiamo questi stessi aspetti dal punto di vista clinico e viene eseguito un ETE considerando ovviamente significativi i leak superiori a 3 mm. Altri aspetti che verranno valutati in questo registro sono la presenza delle complicanze quindi durante il ricovero, complicanze tipicamente correrate all'anestesia e infine verrà chiesto ai pazienti di segnalare a fine della procedura da una scala da 1 a 10 il loro grado di discomfort. Non ultimo verrà valutata infine la durata della procedura. I criteri di inclusione sono la firma del consenso e ovviamente l'indicazione alla LAC sono esclusi i pazienti che non possono essere eseguiti nel FOLAP chiaramente o i pazienti con una forte controindicazione al transesofageo quindi la presenza di velice esofagee di terzo grado o di verticoli esofagee per abbia ragione. In conclusione ho portato il primo caso clinico che ci ha spinto verso la ricerca di una nuova metodica che speriamo possa estendersi a una popolazione più ampia. Ha la necessità sicuramente ancora di essere validata e il nostro augurio è che possa nel tempo affiancare lo single standard quindi il transesofageo e le metodiche A è stata oggi utilizzata. Sicuramente la sonda data le sue piccole dimensioni ha un'ottima tollerabilità per il paziente garantendo quindi comfort sia per il paziente ma anche per l'operatore. Grazie per l'attenzione.